Exit in France, venerdì al Castello Svevo di Cosenza, ancora una volta sarà l'occasione per vedere il castello ma soprattutto ascoltare con i tanti amici di Piano B questo evento che ormai è diventato anima di questa città, di questa nostra calibre così bella. Ascoltiamo direttamente dalla diretta protagonista, da una delle organizzatrici di questa rassegna, di cosa si tratta. È vero Francesco, allora ritorniamo ad offrire dei momenti di spettacolo dal vivo lo faremo venerdì 17 al Castello Norman Svevo di Cosenza appunto con la quarta edizione di Exit in France una rassegna organizzata e voluta da Piano B che valorizza il Genius Loci, quindi le nostre eccellenze e i nostri artisti. E anche quest'anno ci siamo fatti supportare per quello che riguarda la direzione artistica e quindi la scelta dei gruppi da Massimo Garritano che ha, come dire, invitato cinque gruppi a presentare i loro progetti proprio venerdì 17. Sono dei progetti inediti. E poi c'è anche arte oltre la musca, vero? Le sale del Castello ospiteranno una rassegna, come dire, di visual art che è stata voluta e organizzata da Gianluca Gallo, un'altra eccellenza del nostro territorio, un altro amico di Piano B e di Exit in France che ha selezionato sei artiste, quindi tutte donne, sono giovani artiste che vengono dal mondo dell'architettura e dallo studio dell'arte che ci racconteranno quelle che sono un po', come dire, la loro vita, il loro vissuto da donna e della loro vita quotidiana attraverso i loro lavori. Tantissimi artisti. Tantissimi artisti, quindi appuntamento alle 19.30 e poi avremo alle 21.30 un altro ospite, Giobbe Covat ha, come dire, accettato l'invito a prendere parte di Exit in France e, come dire, ci accompagnerà in quello che è nel suo personale viaggio nella Divina Commediola.